Mi scuso ma volevo ringraziare la Croce Rossa per la loro presenza Per fortuna non c'è stato bisogno di rispirazione bocca a bocca però se no erano pronti anche a fare quello, quindi molto efficienti Per fortuna non c'è stato bisogno di risparmiare la Croce Rossa Pronti per l'appreviazione? Sì Deve essere prescita? Ecco il nostro giudice Devi richiamare il penuntino al numero 105 della roccia Allora richiamo il numero 105 che ha fatto la 10 chilometri Se c'è venga avanti il numero 105 che ha fatto la 10 chilometri Eccomi Dove è il numero? Sarà già andato Avevi la canottiera? Non c'è il numero 105? Abbiamo un momento Allora sì Andate Ah guardi L'anno scorso Allora si dà il tuntunesimo giudicato Prendiamo il numero 100 come il tuntunesimo E la canotta va al numero 100 Quindi rispettiamo la correttezza Giusto? Bárbara 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 Grazie. 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 Allora, terzo classificata, Battini Sofia. Brava. Mettiti sul podio. Secondo classificato, Guidotti Cristina, numero quarantena. Bravissima. Primo classificato, Riccardo Carini. Bravissimo. Avete un futuro davanti. Facciamo di vestire. Facciamo la foto a diritto. bravo bravi bravissimi e aspettiamo anche l'anno prossimo adesso i ragazzi delle medie terzo classificato numero 115 Baderi Chiara Chiara Baderi Chiara seconda classificata secondo classificata Carraro Giulia numero 52 dov'è? Carraro Giulia non lo so barbara primo classificato Mattia c'è solo Mattia bravo bravo il fisico bravissimo allora lui perfetto allora nome e cognome Laino Alessio abbiamo recuperato una marca vado io vado io a fare la seconda porta bene io posso dire che ho fatto sotto in alto l'abrivo quindi posso comprare una verifica numeri in forza grazie ragazzi vi aspetto l'anno prossimo bravi 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 buongiorno a te grande grande rappresentanza del gruppo la corsa ecco vedete che gli sportivi si vedono e dappertutto Gabri Gabri Gabriele vai anche tu col basket vai Gabri vai Gabri Gabri vieni vai in rappresentanza hai anche la maglietta vai bravissimi bravissimi bravi vi aspetto tutti anche l'anno prossimo buongiorno 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 Gabri benissimo arrivo grazie grazie la festa ce lo mangiamo ok possiamo andare allora facciamo il premio speciale di quest'anno premio Leonora Coschia la Targa Rodolfo vieni Nadia che la premi tu chiamo Colombo Sara Colombo Sara eccola classe 2008 quindi il premio è riservato a un under 18 in onore di Leonora che aveva 17 anni quindi a te e grazie di aver partecipato grazie 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 vi aspetto anche l'anno prossimo secondo premio speciale offerto dalla gioielleria Cristina Colombo alla fascia di età non si dice più vecchio non si dice più anziano non si dice solo che è della nascita 1937 la scura Veronica avanti signora Veronica eccola eccola per lo spirito che deve proprio contraddistinguere tutti gli avvisini in primo luogo gli sportivi i lonotesi grazie grazie di aver partecipato grazie anche al figlio chiaramente perfetto questo si chiama spirito di partecipazione grazie 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 bravo questo che vi sto in presa c'è questo testo ma questo è il suo eh no 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 primo lunatese come al solito premio dedicato al primo lunatese Larice è un nome che ricorre spesso nella straluna aperto mi pare giusto? bravo avanti è una feccionave grazie anche quest'anno grazie a me quattordici due prima visino che mi sembra che sia anche lonatese Anselmi Davide è uno degli schedati donatori vi fa vedere come come la salute va avanti con l'acqua grazie facciamo la foto ricordo grazie anche l'anno prossimo Davide partiamo adesso abbiamo un premio speciale per la gente che non capiamo come si possono comportarsi però lo chiamiamo una volta correva anche faceva il maratone faceva tutto adesso mangiare a fare un po' Gioppi 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 una volta faceva la tia ci faceva si scaldava adesso vabbè dai prego le prego prego salutare i miei compagni di Gioppi bravo certo beh ci vuole anche un po' sono un po' sudati ma dai grazie adesso andiamo avanti con la premiazione allora cominciamo terza donna prospero Dahlia numero 62 avanti dove è? prospero Dahlia numero 62 avanti il prossimo seconda classificata non c'è? seconda classificata Ravazzani Cristina numero 129 brava brava prima classificata papini paola numero 71 dov'è? eh no andata via papini paola numero 71 si spiace quindi quindi non sapevano di essere previati non lo so grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Vai, mannate! Secondo classificato, Antonacci e Andrea. Vai, Andrea! Questo è un super donatore anche lui, è tanto per chiarire come corrono. Anche tu, certo. Primo classificato, Artenoc e Mirko. Bravo! Anche tu sei donatore? Potresti sempre diventarlo. Bravo, Mirko! Allora, hai già perso un po' di anni, una decina d'anni. Forza, pensaci! Bravi! Bravissimi! Ok! Grazie a tutti per la partecipazione. Vi aspetto il prossimo anno e pensate a diventare donatore molto importante. Bravo, bravo! Bravo, Mirko! Bravo, Mirko! Ciao, ragazzi! Ciao, Mirko! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie, alla prossima! Arriva Gianni con la Chiara. e fa niente perché grazie 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 bravo ragazzi bravo 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 perfetto chiara è arrivata a Berava bravo